Il decreto semplificazione introduce diverse novità anche per quanto riguarda il codice della strada. Molti riguardano i ciclisti che avranno più spazio lungo le carreggiate e poi c'è questa grossa novità degli autovelox anche nelle strade urbane, non solo quelle a scorrimento veloce. A Firenze si sta pensando ad esempio a Via dei Serragli. Il riordino ci doveva essere per rimanere a Firenze. L'autovelox di Via Letruria ormai sappiamo benissimo che non ha condizione di esserci perché anche la stessa legge non prevede che ci sia un autovelox in una strada urbana per quanto a scorrimento veloce. Questo non significa che ci sia bomba libera a tutti e per cui si possa mettere tutta una serie di macchinette autovelox in tutta la città. Intanto noi crediamo che sia il prefetto che coordini enormi le varie responsabilità di quelle che sono anche le nuove installazioni perché non ci vorremmo trovare in una situazione che da una buona legge si fa cassa e pertanto a partire da quelle che saranno le nuove installazioni, quelle che saranno le modalità con cui ogni automobilista vede bene ed è avvertito, esempio classico, l'autovelox è posizionato in una strada dove c'è il limite di 90, dopo 20 metri c'è il limite di 50 e subito c'è l'autovelox. 30 addirittura in alcune strade urbane. In quel caso non si fa educazione, in quel caso si fa un tartassamento delle tasche dei cittadini toscani barra italiani. Pertanto noi pensiamo che questa azione debba essere coniugata insieme ovviamente anche a un'allocazione delle risorse che saranno maggiori perché è una questione proprio matematica, saranno maggiori di introiti che poi sono come sappiamo divisi ovviamente fra chi gestisce ovviamente la strada e chi ovviamente gestisce anche il sistema di rilevazione, che molte di queste risorse vadano all'ammodornamento delle strade stesse a partire dalla nostra questione di come si mantiene il manto stradale e anche da quelle che sono le politiche da fare sull'educazione stradale perché questa è anche una delle finalità per cui anche le sanzioni dovrebbero aiutare i cittadini ad evitare comportamenti scorretti, ad avere comportamenti invece consoni a partire dal limite delle velocità e ovviamente questo è quello su cui noi vigileremo. Chiaramente noi pensiamo ad un'applicazione di buonsenso che avremmo preferito un po' spostata nel tempo perché il periodo Covid-19 mi sembra che sia molto pesante anche nelle tasche dei cittadini.